ciao a tutti nuovo video recensione di una cosa che non ho portato video recensione di astra ipnotize liquid lipstick la numero 14 gipsy io vi metterò due pezzi di video che ho girato sono due giorni differenti allora ho un piccolo test stress test non lo so se stress test però ho applicato adesso il rosetto liquido quello lipnotize di astra liquid lipstick non transfer long lasting full coverage il numero 14 gipsy non lo metto a fuoco comunque è il numero 14 gipsy non lo metto a fuoco l'ho applicato adesso per ora non ha problemi sono immagricata perché ovviamente devo uscire però non volevo fare il stress test vediamo come si comporterà a dopo con il primo aggiornamento qua non c'è oh porca miseria eh oh io non lo so dov'è eh io non c'ero quando ha settalita in macchina eh 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 e me che mi ha fatto salire eh eh e adesso vi faccio vedere anche il risultato finale della giornata io l'ho applicata eh stamattina verso le undici dieci e mezza ho fatto il pranzo di 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 Natale e il risultato se vi faccio vedere aspettate se riesco a fare zoom il risultato è questo se ne è andato eh perché se ne è andato da qua però rimane un un velo di di tinta per me ha resistito abbastanza bene perché non si nota che è svanita al centro comunque ce l'ho dalle dalle dieci e mezza undici quindi sono 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 le nove e cinquantaquattro se lo vedete nove e cinquantaquattro quindi sono quasi dodici ore che ce l'ho su quindi comunque vi farò vedere il un pezzo di un altro giorno e un pezzo di oggi vi faccio vedere i risultati tutto il trucco perché c'ho ancora su il trucco di stamani io come voto da una cinque da una cinque gli do un quattro un quattro se lo merito perché è facile da applicare non secca assolutamente le labbra svanisce ma svanisce gradualmente poi l'odore è anche piacevole si non rimane ultra anche se dice no transfer long lasting full coverage long lasting se non mangiate non bevete su di me poi non so fatemi sapere io ho fatto il una specie di mini review sul gipsy la numero 14 se la metto a fuoco mi piace molto questo colorino nude marroncino molto molto carino e niente spero che questa mini recensione mi piaccia il mio consiglio è che ve le consiglio perché perché hanno un prezzo super low cost sono valide e sono veramente a passo con tutte le mode poi con i packaging nuovi sono fantastici io ve le consiglio poi io mi sono fidata con questa però ne ho anche altre due e proverò anche quelle e niente spero che il video vi sia piaciuto vi sia stato utile lasciate un like e un commentino per supportare il canale ricordate che dal 24 al 12 dicembre pubblicherò un video al giorno quindi state all'occhio sul canale e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao